A causa di un mezzo pesante ribaltatosi autonomamente e temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 18 Tirene Inferiore a Marina di Santa Maria del Cedro, nei pressi del chilometro 222.200 in provincia di Cosenza. Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazione in loco. La chiusura si è resa necessaria per consentire soccorsi stradali. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.